in questa location che a fine degli anni Ottanta è stata anche sede per i gruppi della processione dei misteri. Vorrei iniziare ringraziando i ragazzi dei Tappurini Trinaglia, vorrebbe esserci il presidente, qui tra di noi, che hanno iniziato questa manifestazione con una nuova esibizione, e farei un applauso perché sono stato molto... Ringrazio tutti i ragazzi che hanno pensato a lavorare questa mossa. Grazie. Ringrazio tutti i componenti dei 22 gruppi salari che fanno le processioni della Settimana Santa, non vedo qualcuno, non lo so, se qualcuno vuole fare un saluto è invitato. Poi vorrei ringraziare il presidente Vito Dolce e Giuliana Vaiscazza. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie a voi per aver invitato il presidente dell'Unione, chiaramente a nome del Consiglio, con un titolo personale, anche se con il vostro rapporto e il vostro gruppo ci sono rapporti personali che ripartono dal 1980. Da quando io ho iniziato a fare un lungo percorso fino ad arrivare al 2016, anno in cui sono per la seconda volta stato rovinato dalla presidenza del governo. Poi c'è un rapporto molto bello con questo gruppo, che vi permetto di dire, e questa evidentemente è scuola, ed è scuola di vita, il comportamento, la dignità, il modo di porgersi nei confronti degli altri gruppi e dell'intera manifestazione da parte di questo gruppo, è sicuramente un modo molto garbato, molto civile, molto utilizzando toni da processione, non da scontro. Questo è un gruppo che evidentemente da lontano viene con la scuola del forbiato, il signor Fonticero, che io ho avuto l'onore e il piacere di riconoscere. L'ha presentato per tantissimo tempo questa categoria, dopo che era arrivato il mio amico Nino Romano, che evidentemente, avendo quell'esperienza e quella lezione di vita, ha continuato a portare parte il gruppo con la stessa intensità e con la stessa capacità. Lo si vede anche da tutto come è organizzato questo momento lì. È una manifestazione leggera, sobbia, si è visto poco fa negli occhi del mio amico Ritondo Piccolo, con la semplicità con cui si è rivolto agli amici presenti, ma è questa semplicità quella che vogliamo vedere nella processione. Non servono le cose particolari, serve il cuore che mi ha messo per strada ogni giorno dell'anno, affinché il vederti santo e noi con grande dignità portiamo questa processione avanti. Ho visto che c'è all'ingresso una copia del confronto d'affidamento, che in ordini temporali credo sia il terzo, che prima è quello del popolo, nel 1612, poi c'è il Salinari nel 2016 e poi c'è il posto. Da lì parte la storia di una processione che dura 400 anni. Non ci facciamo prendere la mano dall'entusiasta di facili cose che si possono organizzare, e continuiamo a far andare avanti nel rispetto della storia, dell'amore e della fede. Grazie a Dino e grazie a tutti voi. L'ultima cosa, non volevo non risiedere perché io ho un rapporto di stimante con il maestro, per cui ne conosco le capacità artistiche e sono rascoltato qui con la musica. Grazie, buona stata. Grazie, Presidente. Volevo anche chiamare il nostro capoconsole, Lino Romano, per un saluto. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio al Presidente di Sipanone Semplice e Belle, d'altra parte che sono una persona semplice. Ho avuto affidato questo gruppo e con queste ragazze che mi stanno attorno, che sono fantastici, che portiamo ogni anno in processione questo gruppo. Quello che ci ha lasciato, lo dicendo, è una cosa meravigliosa, una cosa bella, che cerco di mantenere, mantenere come dicevo un altro fermato che abbiamo fatto. Fino all'ultimo, eccezionalmente, questi ragazzi mi collaborano alla grande, mi fanno emozionare. Ringrazio pure il maestro Buscemi, e Buscemi, Vigeto Buscemi, che volevamo fare sul corgettino a tutte cose. E vi auguro buon ascolto. In ultimo, non per importanza, volevo invitare Enzo Alcuscarosi, l'unico rappresentante del Consiglio Comunale che è la mia presenza. Grazie a tutti, decimo volentieri, ma decimo volentieri a queste manifestazioni, perché, credo, prima ancora di essere amministratore di cittadino, questa è la nostra forza, ma insomma, qualcosa di nostro per sempre. Dobbiamo sapere chi è la... Mi do dolce, Presidente, a Dio, ma ci metti sempre il cuore tutto ciò che fai, per voglio dire, va bene, prima dito. Anch'io, infatti, voglio ascoltare il maestro, che solo conosco la Dora Dotti e spero di diventirmi e poter stare tra l'ultimo. Buonasera, condividete. Bene, penso che con i sabati abbiamo terminato. Volevo soltanto aggiungere che abbiamo voluto creare questo evento come gruppo e come associazione bandistica. Noi come gruppo, per dare l'opportunità a tutti i fedeli e devoti di poter vedere da vicino i lini che caratterizzano quello che è il gruppo della deposizione. Abbiamo i lini storici e quelli che portiamo in processione anche quest'anno. Come associazione bandistica so che la selezione musicale fatta dal maestro Cusceri include alcuni brani che non sono della tradizione prettamente trapanese, ma della tradizione delle marcellone e delle siciliane, giusto? Ok. Quindi a questo punto vi auguro un ascolto. E che dici? Grazie ancora. La prima estetuzione che effettverà la banda musicale di San Vito Locato sarà la marcia funebre opera numero 35. L'autore, come sapete, è Frederick Schumann, è un noto compositore pianista a parte, è autore della sonata opera 35 scritta nel 1837 e successivamente trascritta per banda da Salvatore Lucci. A tra la marcia semplicemente è chiamata a Schumann. A voi la banda di San Vito Locato. Grazie. 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 Grazie.